E' gol destro! Che gollo! Golotto! Che gollo! Col destro! Mamma mia! Che gollo! Inizio in campo, seconda giornata, Soccer Cup, girone B, si affronta PSG contro Barcellona, abbiamo l'incontro Antonio Manzola, con le spade che si dirigono al centrocampo, nostra sinistra in maglia nera il Barcellona, nostra a destra in maglia, strisce bianco e blu, il PSG, saluto per il pubblico presente a Kennedy Stadium, e ora saluto fra le due squadre. Vedo il mentre dopo ci mettiamo a semicecchio sulla linea del centrocampo, ora ci sarà un minuto di silenzio, per Pasquale Romano scomparso. Non mi la dì. Giorì! Niente diventare obiettà! Non ci ama! Non ci ama! Un po' di po' paura! Non ci prepara la segona! Non ti porterà! Non ti sm thankful! Grazie. Poi ci sarà il tocco fedeo capitani alla nostra destra, Luca Pistone per il Barcellona, la nostra sinistra, Marcello Adeo per il PSG. Scelti palle e campo possiamo chiudere il collegamento dando un bocca al lupo alle due squadre. Inizio partita, nella seconda giornata Social Cup, girone B, si affrontano in maglia bianca e blu a strisce, il PSG contro il Barcellona in maglia nera. Sto ancora sullo 0-0, seguiremo tutta la prima frazione del match. Sto ancora sullo 0-0. Sto ancora sullo 0-0. Sto ancora sullo 3 förci media. Sto ancora sullo 10- championship. Sto ancora sullo 0-0. 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 Sto ancora sulloough i chiama storico. Scelti palle e campoเลย du Brexitidencire sycille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.